Sicuramente anche tu prima di riporre le uova in frigo hai fatto questo passaggio Oggi ti spiego perché non dovresti mai più rifarlo Sigla! Ciao lettori elettrici di MammaStyle e benvenuti in un nuovo video L'errore più comune e grave che tendiamo a commettere una volta comprate le uova è lavarle Le uova sono rivestite da una sostanza chiamata glicoproteina che serve a proteggere l'interno dell'uovo dai batteri e dai virus Lavarle e conservarle in frigo è sbagliatissimo Questo perché i piccoli batteri presenti all'interno del frigo potrebbero entrare in contatto con le uova penetrare il guscio e poi intaccare il nucleo interno Quindi come dobbiamo riporre le uova sporche in frigo? Come possiamo fare per pulirle senza rovinarle? A questa domanda ci sono due risposte ovvero due metodi per pulire le uova Vediamolo insieme Riporle in frigo così come sono e poi lavarsi le mani dopo averle toccate In questo modo preserveremo l'integrità delle uova ed eviteremo contatti con i batteri Pulirle con un panno umido Questo passaggio può essere preso in considerazione solo se le uova devono essere utilizzate al momento stesso Quindi prenderemo un panno umido, lo passeremo lungo il guscio dell'uovo, lo consumeremo E laveremo le mani Riporle in frigo